Salve unici appassionati di Football Manager, qui con voi come sempre c'è Mike94 e ovviamente Football Manager Italia Siamo qui di uno di Football Manager 2019 con il nostro mitico Milan e oggi andremo a parlare delle amichevoli, delle giovanili, dello staff e ovviamente delle tattiche Per quanto riguarda le amichevoli, come potete ben vedere, le prime due saranno contro due squadre di Lega Pro Quindi partite relativamente soft, anche se comunque ci possono mettere in difficoltà visto che sono le primissime partite di questo nuovo Milan Giochiamo con Renate, ovviamente non potevo non fare le amichevoli contro il Monza, la nuova squadra di Berlusconi Poi partita veramente stupenda contro il Liverpool, poi due scontri di nuovo soft contro l'Assago e il Broni, sempre si accetta la proposta Poi di nuovo partita abbastanza difficile contro il PSV Endovan, infine giochiamo l'ultima amichevoli contro una squadra relativamente facile Il Saronno, giusto per concludere la preparazione perché poi ci sarà la partita importantissima di Serie A contro l'Atalanta Per quanto riguarda le giovanili, ovviamente non andiamo a vedere ogni singolo giocatore Ma quelli più importanti che sicuramente andranno in prestito per crescere Soprattutto ragazzi, Plizzarri, credo e spero di riuscire a mandarlo in prestito Una squadra che lo faccia giocare titolarissimo perché se questo cresce l'anno prossimo già può diventare il vice di Gigio Donnarumma Soprattutto se riusciamo poi a cedere Reina, un giocatore comunque fantastico, dal grandissimo potenziale Speriamo che cresca velocemente Lo stesso vale per Soncin, già conosciamo più o meno la sua crescita L'abbiamo avuto nel Lecce, difficilmente lo vedremo nel Milan principale perché comunque è ancora giornalissimo 17 anni, cresce molto però non così velocemente da appunto vederlo vice come spero invece per Plizzari Però un ottimo giovane che cresce e che diventa molto forte Lo stesso vale anche per Lillo Guarneri, 16 anni, anche lui difficilmente lo vedremo in prima squadra Però è un giovane prospetto molto interessante che possiamo mandare in prestito Il Milan ha un sacco di partieri giovani dal grandissimo potenziale che possono diventare veramente molto molto validi Poi ce ne sono diversi anche di altri giocatori che sicuramente possono crescere veramente bene Ma che difficilmente vedremo in prima squadra Per quanto invece riguarda l'Under 20 anche qui ci sono giovani interessanti come Raul Bellanova 18 anni, terzino destro Già è abbastanza valido, fisicamente è un buon giocatore Mentalmente pure se la cava tecnicamente deve crescere parecchio Proprio per questo spero di riuscire a mandarlo in prestito in una squadra che lo faccia giocare Ovviamente gli rinnoveremo il contratto Poi ci sono, vabbè, ho messo qui nell'Under 20 i giocatori che sono in prestito o che comunque andranno via Fra cui Manuel Locatelli, fra cui Andre Silva che è già stato qui ceduto al Siviglia per circa 35 milioni Poi c'è Giallo, giocatore di 18 anni, già comunque molto valido, ha buone qualità fisiche, ha buone qualità mentali Deve crescere sicuramente tecnicamente a marcatura 11 che per un difensore centrale è abbastanza basso Però speriamo di trovare una squadra che quest'anno lo faccia giocare titolarissimo Perché poi se cresce parecchio già l'anno prossimo possiamo vederlo qualche volta titolare Poi abbiamo Bellodi che è stato però ceduto al Cagliari Poi c'è Frank, giocatore italiano di 18 anni, già fisicamente è valido Mentalmente ha ottime qualità, fra cui la determinazione tecnicamente deve crescere ancora tantissimo Però ha un buon potenziale, ha solamente 18 anni e speriamo che possa crescere Poi vabbè c'è Alilovic che è stato prestato allo Standard Liege L'anno prossimo ritornerà però non credo che lo vedremo in prima squadra Perché mentalmente è parecchio scarso Vediamo, se comunque cresce allo Standard Liege potremmo anche riconsiderarlo, vedremo Poi c'è Gabriele Capanni, altro giocatore comunque di buon potenziale Sono tutti giocatori che comunque possiamo mandare in prestito e sperare in una loro crescita Poi vabbè c'è anche Gustavito Gomez di 25 anni che è stato dato in prestito al Palmeiras Ha un diritto di riscatto di 4 milioni e mezzo Vediamo se lo eserciteranno oppure no Nel caso lo riavremo in squadra, potrebbe anche prendere il posto di Zapata che partirà, vediamo Comunque potremmo cederlo, non ha un ingaggio così importante però non è neanche un giocatore così forte Per quanto riguarda lo staff ho dedicato praticamente una nottata solo a questo reparto Perché il Milan ha un sacco di elementi però alcuni sono veramente veramente scarsi Poi stesso la dirigenza mi ha chiesto ad esempio per gli osservatori di diminuire di gran lunga il numero Ad esempio ci sono 23 osservatori e il Milan, la società, ne vorrebbe un massimo di 15 E ci sono molti elementi veramente scarsi Vabbè ovviamente Gattuso è stato sostituito da noi Ho mandato via Christian Terni che era l'allenatore dell'Under 18 Ma diciamo che i parametri sono abbastanza scarsi Ovviamente ragazzi anche qui come per i giocatori non ho dato importanza alla realtà Ma solamente ai valori che hanno nel gioco Lo stesso vale per l'allenatore dell'Under 20 Federico Giunti abbastanza scarso Ho cercato di prendere elementi molto molto più validi Poi anche vice insomma non erano niente di che Poi ho mandato via anche il vice allenatore Luigi Riccio Perché sinceramente gestione spogliatorio 10, giudizio abilità 12, giudizio potenziale 11 Abbastanza scarso per essere nel Milan Lo stesso vale anche per Emiliano Dei che come allenatore dei portieri veramente maluccio Lo stesso anche Mauro Baldus 8 in forma fisica e cavolo sei un preparatore atletico Iden con patate per Andrea Primitivi 11 solamente Poi vabbè ci sono anche quelli delle giovanili che erano abbastanza scarsi Insomma questo forma fisica 7 praticamente li ammazza i giocatori per quanto riguarda la forma fisica Questo anche era un collaboratore tecnico ma come potete ben vedere parecchio scarso Infatti li ho tutti sostituiti ragazzi Ho quasi tutti Ho mandato via gli esuberi Questo fisioterapia 10 Ho mandato via gli esuberi per prendere comunque gente di gran lunga migliore Andrea Luppi 11 in fisioterapia Cioè veramente non ha senso Aiello anche osservatore che ha giudiziabilità 10 adattabilità 7 non si può vedere Stefano Nava anche lui se non sbaglio era osservatore Ma osservatore con giudiziabilità 9 potenziale 10 Quindi pure lui Ragazzi ripeto ho dato importanza solamente ai parametri del gioco Anche questo match analyst veramente terribile E anche Luigi Ragno l'ho mandato via per quanto non sia poi così scarso Ma perché ne ho trovato uno di gran lunga migliore Infatti come potete ben vedere già ho fatto parecchie offerte C'è Pascal che paghiamo un bel po' 325.000 euro Ma verrà a fare il nostro vice Ed è veramente ottimo Gestione spogliatoio 14 Giudiziabilità 15 Giudizio potenziale 15 Poi è anche un ottimo collaboratore tecnico E ci sarà utile Visto che il vice lo possiamo proprio utilizzare come preparatore Poi ho preso due allenatori per l'Under 20 e uno per l'Under 18 insomma Mario Palazzi che è comunque tanta tanta roba come allenatore dell'Under 20 Gestione spogliatoio motivazione Tutto 13 a differenza del precedente che aveva tipo 9 e 10 Un po' più scarso invece l'allenatore dell'Under 18 Ma lo paghiamo anche relativamente poco 100.000 euro Praticamente tutto 11 Però ragazzi le alternative a questo chiedevano tipo 300.000 euro E non ha alcun senso spendere così tanti soldi per un allenatore dell'Under 18 Poi ho preso il capo fisioterapista che praticamente non c'era E lo paghiamo veramente una miseria Solamente 61.000 euro per un fisioterapista che ha 20 in fisioterapia Poi abbiamo preso un capo preparatore recupero infortunati Visto che non ce l'avevamo A 17 in medicina sportiva Mica, pizza e fichi Abbiamo preso anche un preparatore recupero infortunati Perché non ce l'avevamo E a 16 Niente male Poi ho preso l'allenatore dei portieri a posto di ragno Che è veramente valido 16, 16 e 16 Poi a 14, 15 e 14 Lo paghiamo pure 120.000 euro E poi ho preso anche Luca Pavoni Come collaboratore tecnico Che può essere comunque valido Soprattutto per quanto riguarda L'allenamento d'attacco e difesa E in teoria potremmo anche stare a posto così con lo staff Però vorrei comprendere un altro collaboratore tecnico Non l'ho ancora fatto perché voglio aspettare la conferma di tutti questi elementi Voglio iniziare a gestire l'allenamento Quindi anche a posizionare i vari preparatori Per vedere poi effettivamente cosa ci manca E come migliorare ancora di più il reparto Diciamo che sarebbe solo questo l'ultimo movimento Perché poi per il resto stiamo veramente a posto così Giusto per farvi vedere Appunto la dirigenza richiede che Questo reparto Venga ancora di più diminuito Non penso che lo farò Però insomma Già ne ho mandati parecchi via Per quanto riguarda le tattiche E poi ovviamente chiudiamo il video Come già detto ne ho impostate due Ne vorrei impostare anche una terza con l'attacco a due Con due punte Però non l'ho ancora fatto ragazzi Perché praticamente come attaccante abbiamo solamente Cutrone e Piontech Quindi se riusciamo a comprare un altro attaccante Potrei effettivamente pensare anche di giocare con il modulo a due In caso contrario Difficilmente lo farò Perché potremmo provare il 4-2-4 Anche se è parecchio offensivo Potremmo anche provare il 4-4-2 Però ad esempio Suso sarebbe abbastanza sacrificato Lo può fare l'esterno di centrocampo Ma non benissimo Ci sarebbero Bonaventura e Laxalt sulla sinistra Ma a destra Poi abbiamo anche Castiglieco Ma anche lui non è un esterno di centrocampo fortissimo Dobbiamo valutare Diciamo tutto dipende anche il mercato cosa ci offre Comunque per quanto riguarda questo 4-2-3-1 È un modulo molto simile Almeno per quanto riguarda le impostazioni Al 4-4-2 che abbiamo utilizzato con Lecce Devo essere sincero È una tattica che mi è piaciuta tantissimo Abbiamo giocato veramente bene Abbiamo fatto sempre un bel calcio E abbiamo vinto tantissimo con quell'Ecce Quindi l'ho voluto riproporre ma col 4-2-3-1 Perché ragazzi ovviamente non potevo giocare con il rumbo Perché abbiamo una caterva di esterni E quindi che faccio li butto tutti Ovviamente no E quindi giochiamo con questo 4-2-3-1 Ovviamente mi aspetto i consigli Ovviamente non è il modulo definitivo Vedremo anche le amichevoli come vanno Per modificare un po' le cose Giochiamo ovviamente con Donnarumma Portiere libero Poi due terzini a supporto Ma in teoria potremmo anche mettere automatico Più che supporto E poi difensore che imposta in copertura Romagnoli E difensore centrale Caldara Anche perché poi sono i loro ruoli naturali Poi ho voluto mettere qui il regista arretrato È un po' più offensiva come cosa Non è... forse sarebbe stato quasi meglio mettere un incontrista Però ragazzi abbiamo Biglia Che è perfetto per questo ruolo Nel caso in cui lo dovessimo vendere Poi cercherei un altro giocatore Con le sue stesse caratteristiche Cioè ottimo in fase difensiva Ma ha anche bravo palla al piede Poi ragazzi che si è Bakayoko Sono due perfetti centrocampisti di quantità Quindi sarebbe veramente un peccato Modificare ciò E poi io con il centrocampista di quantità Mi trovo sempre benissimo Poi ovviamente il trequartista potrebbe essere Sia un regista avanzato In supporto ma in teoria anche centrocampista offensivo In questo caso aspetto anche i vostri consigli I due attaccanti esterni E poi uomo d'aria Il gioco... Cioè oddio Potremmo anche impostare attaccante che pressa Perché è il ruolo di cutrone Ma io in teoria vorrei un cutrone bello offensivo Che segni ecco Anche perché hanno addietro tre giocatori Che lo possono mettere in condizione Per segnare una caterva di gol E quindi speriamo che ne faccia parecchi Non è il Pipita Però insomma è sempre Patrick Cutrone Che qui sul gioco è una macchina Nell'Heccia ha fatto 21 gol Se non di più Quindi col Milan Con questi giocatori Ne potrà fare ancora di più Per quanto invece riguarda La seconda tattica È un po' più difensiva È parecchio più difensiva E l'ho impostata sul contropiede Ovviamente questa tattica La utilizzeremo credo poco Ma che ne so Mettete caso Ci capita Un Milan-Real Madrid Per esempio Un Milan-Barcellona O anche che ne so Un Milan-Juventus Potremmo effettivamente Giocarcela così E giochiamo molto sulle fasce Non vi ho fatto vedere Le impostazioni di questa Ma è molto simile A quella con Lecce Sempre qui Ho abbassato un po' La linea difensiva Perché era troppo alta E preferisco comunque Non rischiare troppo Invece per quanto riguarda questa Giochiamo col 4-3-3 In difesa tendenzialmente I ruoli sono già Sono uguali Qui e qui ci sono Ovviamente lo scambio Biglia-Chalanoglu Chalanoglu Andrebbe a fare Il regista avanzato Il regista invece Arretrato Biglia Anzi lo fa ancora meglio Come mediano Lui è perfetto Poi che si Sempre c'è un trompista di quantità I due attaccanti esterni E poi uomo d'aria Cambia poco Praticamente si arretra solamente Il trequartista E poi ovviamente Le impostazioni sono molto più difensive Prudente Poi giochiamo ovviamente Sulle fasce Non pala a terra Potrebbero anche esserci De mini Lanci lunghi Non troppo Però In teoria potremmo anche mettere Cercare di sovrapporvi Però poi saremmo troppo Offensivi E poi vabbè La passiamo contropiede Ovviamente Passa Velocemente Non ho messo Smith Sulle fasce al portiere Perché in teoria Ci abbiamo anche Romagnoli Che come regista Non è scarso Quindi potrebbe anche lui Gestire il pallone Quindi diamo un po' di Libertà A Donna Roma E invece Per quanto riguarda la difesa Ovviamente Non c'è marcate più stretti Ah io voglio levare sta cosa Perché se no Già I cartellini gialli A go go Figuriamoci con questa impostazione E la linea difensiva Così come anche La linea del pressing È molto più bassa Perché ripeto È un modulo Per il contropiede E quindi questo ragazzi Queste sono le due tattiche Ripeto Principalmente Utilizzeremo questa Perché comunque Mi è piaciuto tanto Giocare così Con lecce Voglio vedere anche Come funziona Col 4-2-3-1 Però abbiamo sempre Una valida alternativa Un po' più difensiva E in teoria Se riusciamo a prendere Un altro attaccante Vorrei provare anche Il 4-4-2 Non a Rombo Ma diciamo Quello classico Quello che Ancelotti Sta utilizzando Soprattutto ultimamente Con il Napoli Detto questo Direi che questo video Può terminare qui Io spero che ovviamente Vi sia piaciuto Nel prossimo Già Andremo a bomba Sul mercato Non ci sarà una vera e propria Rivoluzione A meno che il mercato Non ce lo permetta Però sicuramente Vorrei fare qualcosa Di importante Per migliorare questa squadra E arrivare Subito In Champions League Detto ciò Come sempre Lasciate like Commentate Iscrivetevi al canale Iscrivetevi alla pagina Facebook Trovate il link In descrizione Grazie per tutto Quello che fate E come sempre Un saluto A Michael Antaquattro Ovviamente anche da Football Manager Italia Ciao ragazzi